Nelle ultime 24 ore in Canton Ticino sono stati registrati 74 nuovi contagi da coronavirus, 4 i decessi e 12 pazienti ricoverati. Secondo i dati diffusi, oggi dalle autorità cantonali cala la pressione nelle strutture ospedaliere. Nel complesso sono 215 malati di Covid-19, 28 dei quali si trovano attualmente in terapia intensiva. Allargando la lente in Svizzera, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2156 nuovi casi. Secondo le stime pubblicate dall'Ufficio federale di Sanità pubblica, si contano 62 nuovi decessi e 92 ricoveri in ospedale. In Svizzera, da inizio pandemia, il virus ha colpito oltre mezzo milione di persone, 509.279 i casi confermati, 8.345 i decessi, mentre si attestano a 21.229 le ospedalizzazioni. In isolamento si contano attualmente oltre 16.000 persone in tutto il territorio elbetico, mentre in quarantena, perché entrate in contatto con persone infette, oltre 25.000, a cui si aggiungono 2.820 persone che hanno fatto ritorno da paesi considerati a rischio.